Grazie a tutti. Non è resa necessaria dal periodo che è pandemico, che è quello che è. Leggo due poesie tratte dalla raccolta Io qui ci vivo, edita da Gatto Merlino a febbraio 2021, qui al contrario, pazienza. Sono due poesie che ho scritto durante il lockdown, tra le ultime prima della pubblicazione della raccolta. Quindi sono figlie della stasi, della distanza, della perenne virtualità, della sottrazione, del metallo liquido di cui è fatto il cellulare, uno smartphone che ci assorbe, ma ci lascia, non permette di toccarci. In cui c'è una voce femminile, credo. Solido, liquido, gassoso. Sono una donna, in evidente, stato d'abbandono. La cura del corpo prevede attenzioni, che non sempre desidero manifestare. Vestire la forma, depilare il piacere, tingere gli anni, fare esercizio. Stendersi sul banco del mercato. Per qualcosa di più sensato, serve il tavolo di un bar, o un letto, o entrambi. Ingoio, silice e ossido di alluminio, da mesi. Procurandomi scarso, limitato, piacere. Le metanfetamine sono meno sintetiche di queste sbarre virtuali. L'eccitazione è un distillato da bere, ancora caldo. Mentre questo vetro liquido è freddo. E appartiene a chi? Ti ho detto che sono ubriaca questa sera, sì? Ho aggiunto, ti amo, mi manchi, vado a stendermi. Vado a toccare se esisto. Grazie.